Sigmund Freud, studi sull'isteria e altri scritti, 1886-1895. Abbozzi per la comunicazione preliminare. Terza parte. Più sopra abbiamo dovuto offrire come dato d'osservazione certa il fatto che i ricordi che si celano dietro i fenomeni isterici sono assenti dalla memoria di cui dispone il malato, mentre possono essere rievocati con allucinata vivacità nell'ipnosi. Abbiamo inoltre asserito che tutta una serie di tali ricordi si ricollega a eventi accaduti durante stati particolari, quali cataplessia da spavento, stati oniroidi, autoipnosi e simili, che il loro contenuto non ha alcun nesso associativo con la coscienza normale. Ci era quindi impossibile trattare della condizione per l'insorgere dei fenomeni isterici senza prima aver formulato l'ipotesi che tenta di ravvisare una caratteristica della disposizione isterica nel fatto che spesso nell'isteria si giunge alla temporanea dissociazione del contenuto di coscienza e al distacco di alcuni complessi rappresentativi che non stanno in alcun rapporto associativo. Cerchiamo quindi di vedere la disposizione isterica nel fatto che tali stati o insorgono spontaneamente per cause interiori, oppure possono essere facilmente provocati da influenza esogene, pur non escludendo la possibilità di una serie di casi in cui si dia una variabile partecipazione di ambedue fattori. Chiamiamo ipnoidi tali stati e ne ravvisiamo le caratteristiche essenziali nel fatto che il loro contenuto è più o meno escluso dal rimanente contenuto di coscienza e viene quindi sottratto alla liquidazione associativa. Così come noi, nel sogno e nella veglia, modello di due stati che differiscono tra loro, siamo portati non ad associare l'uno con l'altro, ma solo ad associare con l'uno e con l'altro. Nei soggetti predisposti, qualunque stato affettivo potrebbe dare adito a una simile disgregazione, mentre l'impressione ritratta dall'affetto si farebbe trauma, anche se inadatta in sé per sé a divenirlo. L'impressione potrebbe persino di per sé produrre questo affetto. Nella loro forma completamente sviluppata, questi stati ipnoidi associabili l'uno all'altro formavano la condition seconde, eccetera, dei ben noti casi. I rudimenti di questa disposizione sembrerebbero riconoscibili ovunque e possono svilupparsi anche nei soggetti non predisposti attraverso traumi appropriati. La vita sessuale si dimostra particolarmente adatta a formare il contenuto di tali traumi, con la potenza dei contrasti che essa crea in determinati soggetti e con le sue rappresentazioni cui è impossibile reagire. E' quindi comprensibile come la nostra terapia consista nell'eliminare i risultati delle rappresentazioni che non hanno subito abreazione, sia facendo rivivere il trauma in uno stato di sonnambulismo, per sottoporlo ad abreazione e per emendarlo, sia per riportare il trauma in una più leggera ipnosi nello stato di coscienza normale.